Mi sento bene. Mi sento Artemide, dea dei boschi e della caccia, che con le sue frecce c'entra sempre l'obiettivo. Figlia adorata di Zeus, sa quello che vuole e come ottenerlo. Vuole essere libera, di correre e inseguire ciò che desidera. Lo sento il mio traguardo. Fuori da quest'aula c'è la libertà che mi aspetta. C'è una strada nuova. Voglio meritarla. E' qui, ora, la mia occasione di mostrare chi sono. Sono le scelte sbagliate di un adolescente in cerca di sé. Sono le aspettative deluse di una sognatrice lontana da casa. Sono le lacrime versate nel sentirsi incompresa. Sono i sensi di colpa. Il tormento di credersi sbagliata. Sono il coraggio di chiedermi chi sono, chi voglio essere. Sono la paura di perdermi e fallire. Sono la fiducia nel voler riuscire e la volontà di provarci ogni giorno. Sono un piccolo passo. Sono l'equilibrio che perderò ancora e poi ritroverò. Ora sono questa e chissà cosa sarò. Da cosa nasce cosa?